Ciao a tutti ragazzi sono Coridan ancora una volta ben ritrovati nel mio canale come già annunciato nel video precedente vi ricordo che abbiamo stretto una collaborazione con la Lotmax che ringraziamo e salutiamo ancora una volta e ci hanno fornito la loro prima stampante LCD e resina la CH10 che è da poco uscita sul mercato e come avevamo annunciato appunto nel video precedente vogliamo fare un video comparazione fra la Anycubic Photon che è quella che ci è arrivata precedentemente ancora una volta colgo l'occasione per ringraziare anche loro che sono stati gentilissimi all'Anycubic e quest'altra che poi le vedete anche come dimensioni sono praticamente uguali questa qui è leggermente più alta per quanto il piano di lavoro è più o meno lo stesso e questa qui è molto più scura ha uno schermo di colore arancione mentre quest'altra ha le pareti di colore giallo iniziando dalle cose che subito vi danno nell'occhio le cose che subito potete vedere questa qui ha una maniglia più piccolina tipo a bottoncino così da tirare su per quanto questa la presa ce l'ha più stagna vi dico la verità questa proprio si chiude veramente che non ci passa nemmeno un filo d'aria quest'altra non ha la chiusura magnetica come la Photon però la maniglia sinceramente mi piace di più perché è più grande e rischia anche meno di scivolarti di mano e magari andare a sbattere non succede niente però comunque questa qui ha più una chiusura meccanica questa qui ha lo schermo che prende tutta quanta questa parte bassa questo qui invece ce l'ha più o meno al centro e però questa ha il pulsante d'accensione qui sul lato che è lo stesso alla fin fine non è scomodo non è che devi andare dietro mentre questa ha un bel pulsantone messo davanti che onestamente leggermente mi piace di più però vabbè sono cavolate alla fin fine non conta niente tra l'altro se sentite al solito uuuuh c'ho un mega ventilatore lì eh mi scuso con tutti ma è l'unico modo che posso fare video d'estate ora andiamo leggermente di più nei dettagli tecnici per quel poco che vi posso raccontare ragazzi perché sono un abbazzo nel campo e lo ammetto tutte e due identiche hanno una velocità di stampa di 20 mm all'ora tutte e due sia la lotmax che appunto l'any cubic il volume di stampa cambia ve l'ho detto leggermente ma proprio pochissimo nella photon è di 115 x 65 x 155 mentre invece nella ch10 della lotmax è invece di 120 x 68 x 155 quindi vedete là dove va a levare magari un mezzo centimetro da una parte lo va a mettere da un'altra sono uguali diciamo i volumi di stampa sono gli stessi volume della stampante anche questo cambia veramente di uno sputo ma ragazzi ripeto lo vedete come larghezza sono larghe uguali questa è proprio un pelino più alta nemmeno un centimetro mezzo centimetro più alta quindi di nulla la cosa che invece inizia un po' a cambiare è lo slicer il software predefinito appunto che andremo ad utilizzare quello che è presente nella chiavetta che appunto ci viene data per caricarci i progetti della lotmax mentre per la photon ha il suo ed è il photon slicer la lotmax usa invece il c2box versione 1.6.3 la potenza alla fine è quello che ci interessa ancora più a noi perché ho visto a volte tante domande ma quanto consumano il consumo in watt è di 40 watt all'ora mentre invece quest'altra è di 50 consuma leggermente di più però ragazzi non sono sicuramente un elettricista né niente del genere però 40-50 watt all'ora è veramente poca poca roba io penso che il ventilatore quello che stiamo usando lì dietro consuma anche di più la risoluzione è la stessa 1040x2560 quindi anche questo un altro punto che le accomuna tutte e due il telaio è leggermente più robusto questo qui della CH10 rispetto a quello della foto è un pochino più durina non più resistente però diciamo un pochino più robusto come detto alla fin fine in tutti i due video la CH10 ha 4 viti che sostengono il piatto di lavoro 4 viti laterali più ovviamente anche quella la levetta quella sopra più 4 viti sotto quindi sono le 4 sopra cioè scusate ai lati sinistra e destra le 4 sotto e la levetta quella sopra per il regolatore mentre invece quello dell'Anycubic il piatto ne ha soltanto una che è quella sopra quindi alla fin fine sicuramente fanno forse leggermente più presa queste viti che lo tengono più ancorato però vi dico la verità tutte queste viti le ho viste un pochino inutili vi dico la verità perché alla fin fine anche questa che ce n'ha uno soltanto è precisissimo quindi si vede sono due diverse architetture semplicemente l'hanno fatto secondo noi sicuramente per aumentare la presa e la precisione ma appunto come detto poco fa noi onestamente ci siamo trovati meglio con la precisione dell'Anycubic non che sia sprecisa però mi sembrano troppe viti messe lì qui ce n'ha una soltante va bene uguale vabbè tutti e due i serbatoi delle stampanti dove andate a versare la resina sono fatti in alluminio la differenza è che in questa qui della Lotmax quando andate a cambiarci il FEP sotto il FEP ha un pezzo di metallo che sostiene appunto ancorato il FEP al serbatoio mentre invece la Photon ha due pezzi simili tra loro tra l'altro Double Fass che fanno proprio da clip quindi la tengono ancorata appunto al serbatoio ci siamo trovati meglio con quello della Photon perché è molto più ancorata cioè il FEP è la cosa che deve stare sì deve fare un po' di gioco il tamburello vi ricordate tutto ma deve stare ben fermo perché quello veramente è il primo motivo della stampa rovinata e di qua è molto più ancorato rispetto a quest'altra che boh magari con quel pezzo soltanto a sorreggerlo sembra un pochino più leggero e poi abbiamo visto che passava leggermente un po' di resina attraverso il FEP e non è bene questa cosa qui però boh magari era leggermente da stringere un pochino in più la stampa non ce l'ha rovinata insieme ovviamente alla stampante c'era un pacchettino con un bel po' di roba all'interno e dentro c'erano la solita chiavetta USB però qui completamente fatta in plastica una lama metallica una lama in plastica un pennello brugole ovviamente per andare a stringere tutti quanti i dadini che ci sono la resina questa qua giù 250 ml per iniziare va bene un alimentatore due mascherine sempre metterle sempre quando è aperta e lavora cinque imbuti di carta per rimettere la resina a posto un paio di guanti in nitrile un FEP di ricambio uno soltanto mentre di là nelle N-Cubic te ne davano due e un cavo Ethernet nel caso per collegarla direttamente al computer quindi a livello di componentistica il cavo Ethernet la lama in metallo tutte le cose che ci sono dentro a livello di componentistica era veramente piena zeppa di roba quella scatolina lì c'era veramente di tutto tutte cose ovviamente che vi servono poi a fare la stampa a differenza della Foton la lama in metallo non ve la davano e lo stesso nemmeno il pennello nel manuale che trovate manuale d'uso ovviamente che trovate dentro la confezione stampato cartascio ci sono tutte quante le informazioni che vi fanno un'introduzione su quello che c'è dentro la componentistica che vi abbiamo detto e soprattutto sulla macchina però il vero e proprio manuale tecnico della CH10 della Lotmax lo trovate dentro la chiavetta che vi abbiamo detto che è sempre dentro la scatolina ed è in formato PDF ad ora e soltanto ad ora quando avviate C2box o Key2box che sia lo chiamo C2box dovete crearvi un profilo personalizzato perché ragazzi è appena uscita quindi nel programma secondo me fra uno o due aggiornamenti ci sarà non c'è il profilo della CH10 della Lotmax quindi lo dovete fare a mano appunto guardando il manuale misure di stampa piatta e tutto quanto infatti il formato dei file per permettere la stampa devono essere in formato .cbddlp parliamo delle resine basiche che vi arrivano a contatto delle stampanti quello della Photon se vi ricordate ve l'abbiamo fatto vedere all'inizio come prime stampe navi del caos e quant'altro è una resina trasparente verde che è abbastanza densa e fa un po' tanta puzza perché poi alla fine anche gli odori possono venire fuori da tantissime cose filtri della macchina areazione ventoli della macchina se è chiusa bene la macchina se no fa un puzza assurda ma anche e soprattutto dal tipo di resina e quella verde della Photon faceva un odore un pochino sgradevole ecco se devo essere sincero e poi era anche un po' la causa della maggior parte dei nostri fallimenti di stampa mentre la resina gialla questa qui piccolina che ci è arrivata con la Lotmax avete visto nel video precedente anche questa come appunto resina basica ha un odore decisamente forse forse leggermente meno sgradevole ma è comunque forte si sente però più liquida detto sinceramente e ora non si può fare un paragone della madonna anche perché non c'ho tutta questa conoscenza però come resina basica e parliamo solo di resine basiche che arrivano col prodotto e che poi forse non ricomprerete nemmeno più prenderete magari ABS cosa presa rapida forse la resina questa qui gialla liquida è leggermente meglio rispetto a quella trasparente che ci è arrivata con la Anycubic altro punto a favore della Lotmax appunto rispetto alla Anycubic della CH10 rispetto alla Photon è più silenziosa noi l'abbiamo avviata e a un certo punto siamo sotto distanza e si diceva questo non sopparco ma sta funzionando sta andando sta stampando si è fermata ogni tanto andiamo a vedere silenziosissima e anche quando l'andate ad accendere la ventola stessa fa pochissimo rumore a parte vabbè inizialmente l'LCD che quando si accende fa qualche blip quello è normalissimo quest'altra invece è un pochino più rumorosa e soprattutto quando l'accendiamo all'inizio per i primi 30 barra 60 secondi fa un rumore un po' meccanico tipo un rumore un po' strano come se ci fosse una ventola bloccata qualcosa del genere che poi non c'è funziona perfettamente però questa qui fa un pochino più di rumore all'inizio quest'altra dall'inizio e per tutta la stampa io ogni tanto venivo su ma è accesa ragazzi silenziosissima e quindi è molto più silenziosa rispetto a l'Anicubic che già di suo non fa casino comunque una cosa che però bisogna essere onesti come sempre ha dato particolarmente fastidio a mia moglie che l'asse Z quello ovviamente su cui sale e scende il piatto di lavoro se voi quando sta finendo la stampa avete lasciato questo aperto e non deve capitare perché comunque resine insomma sono cose tossiche cancerogene comunque avete lasciato il coperchio aperto e il piano di lavoro il piatto ha salito per l'asse Z ed è arrivato fino in cima arriva talmente in alto che non potete più richiudere la macchina la macchina non si può chiudere perché ci va a picchiare proprio rimane un pochino aperta così non ce la fa più a chiudersi perché il piatto è andato oltre la sua altezza massima sull'asse Z e non lo potete richiudere ovvio basta che poi è una cosa però è contro ma soprattutto contro la spingete leggermente con la mano e va giù ma non è bene che un piatto si spinga in giù con la mano ma ha fatto un po' paura sinceramente ma senza nemmeno farci forza così con un dita abbassato e quindi deve essere ben chiusa quando arriva a fine stampa perché sennò vi rimane leggermente aperta in sintesi per non farvela troppo lunga concludendo e tutto quanto anche perché vi vogliamo dare un consiglio per l'acquisto che è la cosa alla fin fine il tema principale di questo video alla fin fine come aspetto come aspetto ma sono cavolate soggettive quindi questa non si può prendere come valutazione è per il fatto che a me piace più lo schermettino cioè le mura così le pareti mi piacciono più di questo vetrino color arancione che questo giallo mi danno l'idea che la luce non filtri dall'esterno e verso l'interno e non possa rovinare la stampa non è vero se lo fa lo fa lo stesso però comunque mi piace di più e forse però il colore un'altra cosa che invece mi piace molto più della Photon è che è più grande come vedete la finestrella rispetto a quest'altra questa quando lavora essendo scura poi ci sanno l'illuminazione del cavolo noi qui sopra nel suo parco non vedi mentre sta stampando cioè anche se t'affacci non riesce a vedere cosa sta facendo se dobbiamo trovare un punto che per alcuni perché no ragazzi potrebbe essere fastidiosa perché noi la teniamo veramente vicino alla stanza dove stiamo perché è un piccolo studio magari qualcuno la tiene in un garage quindi anche se c'è un concerto metal non gliene frega niente alla fine si fa casino chi la tiene invece in una stanza accanto con le pareti particolarmente magari sottili potrebbe sentire casino comunque questo qui secondo me è un dato molto oggettivo alla fin fine e la foto è un pochino più rumorosa questa fa un pochino più baccano quest'altra invece ragazzi è veramente veramente silenziosa ovvio qualcosina sentirete sempre però questa qui fa il doppio terricasino di quest'altra e già di su è abbastanza silenziosa quindi a livello di silenzio di rumore e tutto quanto vince assolutamente la lotmax rispetto all'any cubic il piatto di lavoro che è una delle cose più importanti insieme al FEP come vi abbiamo detto nella CH10 ha otto viti cioè a tenere la ferma più ovviamente la vite di regolazione sopra quest'altra invece ha soltanto la vite di regolazione sopra senza neanche un bullone un dado niente che la tenga ancorata però mia moglie ha trovato molto e già c'ha un mese di esperienza sulle spalle ha trovato molti più problemi a calibrare questa qui che non quest'altra quindi secondo me alla fin fine tutte quante queste vite e tutto quanto che la fanno sembrare più fissata più precisa e tutto quanto secondo me è meglio il piatto dell'any cubic non lo cambierei sono sincero come vi abbiamo detto i FEP per il fatto che uno ha un pezzo di ferro che lo tiene ancorata invece quell'altro c'è una 2 che fanno presa clip lo tengono più ferme alla fin fine c'è da svitare tanti viti è una cosa molto precisa veramente chirurgica che dovete fare standoci ben attenti guardando sicuramente più videoguide e col FEP ci siamo trovati meglio con questo qua perché su questo abbiamo trovato leggermente forse era stretto male per l'amor di dio però abbiamo trovato leggermente qualche goccia di resina e la resina sul FEP non ci deve assolutamente finire quindi anche a livello di FEP come è messo come è fermato come è fissato e tutto quanto ci troviamo molto meglio con quello della Foton quindi alla fin fine non si può dare un voto anche perché dare lo stesso voto a tutte e due ci sono magari gusti personali come macchine sono molto simili quindi se una persona compra questa e l'amico compra quest'altra non c'è nemmeno tanto da raffigurarsi e da invitarsi a casa mi fai vedere come stampa la tua ti faccio vedere come la stampa la mia perché ragazzi è più o meno lo stesso modello come dimensioni di stampa come tutto ora dipende a noi soggettivamente ci è piaciuta di più la Foton ma non perché sia migliore o altre cose ci siamo trovati meglio forse rispetto a questa è leggermente più user friendly come utilizzarle e tutto quanto poi ve l'ho detto cavolate il pulsante davanti il colore magari la chiusura stagna il piatto di lavoro la bacinella il feppe e tutto quanto e l'asse Z soprattutto che lì qui non lo sposti il piatto qui invece a mano sì però i pro di uno poi ci sono i contro dell'altro ovviamente come tutte le cose questa c'ha delle cose meglio di quest'altra e questa meglio di quest'altra però a noi come tipo di stampante ci siamo sentiti più a casa è come quasi più se la Foton fosse più amichevole che ti accompagna sulle cose che c'è da fare mentre invece la CH10 della Lotmax ti guarda un pochino con la puta sotto il naso però poi se le fai un pochino il solitichino a modine tutto quanto si fa un po' giostrare che non è un male perché ci devi fare forse leggermente più di rodaggio ti devi leggere il manuale PDF che comunque ti spiega come fare ci vuole diciamo un pochino più di attenzione con questa un pochino più seria di questa però alla fin fine la stampante il modello è pressoché lo stesso e le stampe che fanno sono praticamente identiche non è una 4k non ha più risoluzione di quest'altra quindi le stampe sono identiche quindi parere personale se le dovete acquistare tanto più o meno anche il prezzo è lo stesso per quanto questa al momento è un'offerta questa a prezzo pieno ma perché questa è appena uscita comunque se le dovete acquistare ragazzi va benissimo qualsiasi delle due cioè io vi potrei dire comprate questa mia moglie potrebbe dire comprate quest'altra è la stessa macchina più o meno a noi è piaciuta di più questa perché leggermente più user friendly ve l'ho detto solo per quello non perché sia migliore però se dovete fare un acquisto ragazzi o questa o questa d'amico comprate quella che trovate a meno perché tanto come macchine sono buonissime eccellenti per iniziare tutte e due ma anche secondo me per persone un pochino più navigate vanno bene sia per principianti che anche un livello intermedio fatemi sapere cosa ne pensate io ringrazio la Photon e la Lotmax per avermelo offerte tutte e due grazie di cuore è un onore collaborare con voi e spero ragazzi un giorno di riuscire fdm perché a quel punto mi piacerebbe proprio fare un video comparazione resina con fdm a filamento e vedere anche un po' come stampano perché lì siamo completamente a digiuno fateci sapere cosa ne pensate e ovviamente lasciate un commento sotto il video ciao ragazzi alla prossima